Sì, varie tecniche diverse, vari artisti appunto sia giovani che meno giovani, però sono tutti amici di Graziano D'Agna, amici pittori, non per niente la locandina riporta amici pittori, quindi specificato nel lavoro. È stata improvvisata così e l'ho voluta fare proprio in occasione delle feste natalizie per ricordare Graziano insieme e che ha lasciato un seguito, anche perché avevamo la scuola d'arte qui, dove venivano molti studenti, molte persone anche anziane, proprio per apprendere quello che è l'aspetto del disegno, del nudo e del paesaggio della figura umana. Non essendoci con lui, tirava anche questa cosa, pur avendo fatto anche il liceo artistico dell'Accademia, sono già nel settore, ci siamo incontrati proprio in Accademia e seguito, perché è una cosa che la sento dentro. L'ho fatta ultimamente a Stardana, a Spezia, la Calandriniana al cioccolato, perché noi siamo stati lì, cioè Graziano D'Agna è stato l'inventore della Calandriniana. Quest'anno siamo al 38esimo anno, cioè nel 2018 e quindi anche quella la porto avanti io, perché è una mia creatura, in quanto l'ho batteggiata Calandriniana. e così si va avanti.